Benvenuti in un nuovo video torciofili, amanti della luce potente durante la notte. Oggi vi presento un nuovo mio acquisto, nuovo per così dire, perché l'ho acquistato un po' di mesi fa, ma ancora non ho avuto modo di utilizzarlo, a differenza delle altre torce che avevo già in dotazione e che avevo nel mio, diciamo, edisi personale sia nel marsupio sia nel mio zaino che porto durante le escursioni. Questa l'avevo acquistata perché mi era stata consigliata, perché è molto economica per la potenza che c'ha e anche di qualità abbastanza, diciamo, buona, ottima, per non dire ottima, ecco, e di origine ovviamente cinese, quando si parla di economia non si può che essere made in China, ed è la Wuben, Light Up Your Life, la Wuben C3. E qua ti dice le specifiche, 1200 lumen di potenza luce, la ricaricabile tipo C, mi sa che è già in dotazione, poi l'apriremo che lo vedremo, e low power warning, vediamo un po' però le cose che ci interessano di più, che sono le specifiche, cioè, quale modalità c'ha? C'ha sei modalità, una alta a 1200 lumen, una media a 400 lumen, una bassa a 80 lumen, una economica a 5 lumen, guardate un po' quanto dura quella a 5 lumen, addirittura 143 ore, e poi ha la funzione strobo e la funzione SOS. E ovviamente a tutta potenza, 1200 lumen, circa, arriva a 2 ore e mezzo di utilizzo, un utilizzo medio 3 ore e mezzo, basso 20 ore, ed eco addirittura 143 ore. La distanza appunto della luce è di 179 metri, riflettente, è resistente all'acqua, abbiamo la specifica IP68, cioè 2 metri sotto l'acqua per un'ora, quindi se vi cade in acqua dove noi appiediamo, può stare per un'ora sott'acqua, e resiste ad impatti a cadute da 1 metro e 50, il materiale è molto interessante in alluminio aerospaziale, se non sbaglio 60-68 si chiama, una cosa del genere, il peso è di soli 73 grammi, con la batteria invece 123 grammi, e la grandezza è di 121 mm e mezzo per 25 mm e mezzo. Qui ce ne sono poi tutti i contatti, e qua anche un riassuntino delle cose che abbiamo detto. Andiamo però ad aprirla, metto lo schermo largo, io se non sbaglio non l'avevo neanche aperta, non mi ricordo, sì forse l'avevo aperta ma poi l'avevo rimessa a posto, e sì come vi avevo preceduto c'è già il caricabatterie, poi ci sono degli anelli, questi casomai si rovinano per sostituirli, spare o ring, ok, qua c'è la robaccia che non ci serve, e qui c'è il cordino, bellino, molto carino, quello sembra resistente, vi faccio vedere di ottima qualità, con la scritta Wuben, molto molto carino, questo per fissarla al nostro braccio, per non farla cadere nella notte. andiamo a scartarla, eccola qua, ecco questa è la Wuben, vi faccio prima una visuale diciamo di insieme, di fronte e anche di qua, con la scritta, molto bella, e ha anche la clip, che si può spostare, quindi questa è molto utile, sembra bella resistente, si può staccare penso anche questa, si si può asportare la clip, quindi si può togliere se uno non vuole avere la clip, qui ci sta il caricabatterie, e niente, e qui ci sta un led, non ve l'avevo detto, che ti indica quanto è scarica la batteria, mi sa che è blu quando è ancora piena, mentre è rossa quando si sta per scaricare, andiamo a rimuovere questo, a rimuovere appunto, please remove the battery insulation sheet before using, qui dobbiamo togliere l'isolante della batteria, per farla funzionare, quindi andiamo ad aprirla, eccolo qua l'isolante, lo togliamo, questo dischetto che non fa funzionare la batteria, e questa è la batteria presente all'interno, 2600 mAh, ottima, un'ottima batteria, andiamo ad illuminare il mondo, con la nostra Wuburn, vedete è verde, ed è bassa come luminosità, proviamo ad aumentare, aspetta, provo a spegnere la luce, impressionante però, si vede abbastanza bene, ok, riaccendo la luce, e come possiamo vedere qui, anche, degli spuntoni, diciamo, che possono essere utilizzati come cubotan, per ferire qualche avversario, qualche feroce bestia selvatica, e qui applichiamo poi il cordino, poi per l'utilizzo, vi farò sapere, anche per la potenza, della luce, della luce, magari la proverò all'esterno, al buio, e vediamo un po' come va questo gioiellino, magari faremo un video poi di prova all'aperto, e questo era l'unboxing, della, Fuben C3, e un caro saluto, dal vostro doc. Avevo dimenticato, di farvi vedere, come funziona la torcia, allora così è accesa, cambiamo la luminosità, questa è più bassa, così è media, così è forte, e così è molto forte, e poi pigiando due volte, possiamo avere l'effetto strobo, o l'effetto, un attimino, strobo, e poi c'è anche l'effetto SOS, e niente, vi saluto con il buio della torcia, anzi, con la luce della torcia, e ci vediamo in un prossimo video, dal vostro doc, stavolta è finito veramente.